Sono Giuseppe Cocco e sto viaggiando lungo l'Umbria dei Sapori per raccontare e suggerire a turisti e viaggiatori del gusto territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali ed immateriali dell'Italia. È un prosciutto, il prosciutto di Norcia, di montagna, lavorato nei comuni della Valnerina, situati oltre i 500 metri di altitudine Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggio Domo. Norcia è da sempre sinonimo di carne di maiale trasformata. Già all'epoca dei Romani il territorio era famoso per la conservazione delle carni su guine in quanto l'area montana per caratteristiche morfologiche e condizioni climatiche si prestava meglio all'allevamento e alla pastorizia piuttosto che alla produzione agricola, soprattutto in inverno. Si ottiene quindi dalle cosce di suini pesanti adulti. La lavorazione prevede due fasi di salatura, il riposo per due mesi, due mesi e mezzo, la sugnatura e la stagionatura che, secondo il disciplinare di produzione, deve durare almeno 12 mesi. Al taglio si presenta di colore rossorosato, ha un profumo delicato e leggermente speziato. Il sapore è pieno, moderatamente sapido e dolce. Ogni prosciutto di Norcia IGP deve essere contrassegnato da una marchiatura a fuoco, che reca la dicitura prosciutto di Norcia. In etichette e simili la designazione della indicazione geografica protetta prosciutto di Norcia deve essere riportata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che possa comparire in etichetta. Se acquistato affettato, il prosciutto di Norcia deve essere mangiato entro breve tempo, per evitare che perda di freschezza. Si consiglia invece di conservare i prosciutti interi in luoghi freschi, non in frigorifero, e una volta affettati di ungere la superficie di taglio con una goccia d'olio e rivestirla con un foglio di alluminio o di pellicola trasparente. Norcia, quindi, è un comune umbro della provincia di Perugia, i cui abitanti sono detti Nursini, posto al limite nord dell'altopiano di Santa Scolastica, un pianoro collocato nel cuore dell'Appennino Umbro Marchigiano ed inserito nel comprensorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. È il comune più orientale della regione Umbria. Norcia si pone come il centro di riferimento politico, economico e amministrativo di un vasto territorio, un ruolo che le deriva storicamente dalla posizione geografica di confine e anche da una possibilità di integrazione tra l'economia di pianura e quella di montagna, che non trova riscontro in tutta la Valnerina. La città fu un importante nodo stradale, già in età preromana, come attestano i numerosi castellieri oltre ai cospicui e diffusi ritrovamenti archeologici. In età Longobarda ebbe rilevanza come centro di transito delle comunicazioni tra il Ducato di Spoleto e quello di Benevento e successivamente tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. L'assetto complessivo del territorio è fondamentalmente quello dell'età comunale e si articola in una fitta trama di percorsi lungo i quali sono disposti castelli e ville agricole a presidio di una regione impervia ma ricca di acque, di boschi e di pregiati pascoli. Dopo la visita di Norcia e dei dintorni si può riprendere dal Serravalle la Statale 320 che porta a Cascia attraverso la Valle del Corno. La cittadina di Norcia sorge al margine dell'ampia e fertile piana di Santa Scolastica. Cinta da un anfiteatro di montagne e irrigata dai fiumi Sordo e Torbidone e dalle sorgenti di San Martino. È una zona di transizione tra gli impervi rilievi occidentali e l'elevato compresso dei Sibillini. La Conca ha offerto con le sue aperte campagne condizioni favorevoli a un precoce insediamento umano, già presente nel Paleolitico inferiore e attestato dall'età neolitica. Nursia, sorta probabilmente nel 500-400 a.C., divenne capoluogo settentrionale dei Sibillini. Nel 209 a.C. venne conquistata dai romani che la cinsero di una cerchia di mura. La viabilità antica fece della città un crocevia fondamentale degli itinerari tra la Flaminia e il Medio Adriatico, evidenziando la funzione di cerniera che ne valorizza un ruolo territoriale preminente durato fino al 1500. Sede di diocesi nel V secolo fu devastata dai goti, invasa dai longobardi che la ricostruirono facendone importante centro del loro ducato e infine dai saraceni. Libero e fiorente comune prese definitiva configurazione tra il 1000 e il 1300. Una nuova città muraria edificata nel 1200, in buona parte sopra quella romana, ne fissò la forma urbana. Le vicende successive sono scandite dagli eventi sismici. Nel 1328 un terremoto rase al suolo la città medievale, lasciandone in piedi solo le possenti mura che tuttora la cingono. Norcia fu devastata nuovamente nel 1567, nel 1703 e nel 1730. Di quest'epoca è il regolamento pontificio antisismico che proibiva di costruire in città case superiori ai due piani. Le nuove forme edilizie che nelle residenze gentilizie sopperiranno alla contenutezza architettonica con la ricerca dell'ornato, dovranno, diverranno carattere peculiare del tessuto abitativo, connotando il rinnovamento sette-ottocentesco come l'abitato odierno. Norcia e la sua montagna vantano specializzazioni artigianali e agricole di secolare rinomanza. Nel Medioevo e nel Rinascimento erano ricercate le lane e i gioielli. Oggi, come un tempo, sono pregiate le carni suine lavorate dai norcini. Il nome ha assunto significato antonomastico e i tartufi neri sagra in febbraio. Il 21 marzo la città ricorda San Benedetto, il suo nativo più illustre, fondatore del monachesimo in occidente e santo padrono dell'Europa.